Dopo dieci anni la VL tornerà a giocare in playoff. Barca si rovescia la regata a Pesaro-Pola, cinque persone salvate. Ferrovia Ricci aspetta il ministro Giovannini a Pesaro. Un nuovo parcheggio cambia la sosta per cimitero e mercato. In 200 di corsa per la Croce Rossa e l'Ucraina. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV. Lunedì 9 maggio, primo telegiornale di questa settimana per l'informazione di Rossini News. Notiziario di lunedì che apriamo eccezionalmente con lo sport perché ha davvero dell'eccezionale. Quanto accaduto ieri sera a Napoli dove la VL, la Carpegna, Prosciutto Basket Pesaro, ha conquistato i playoff a distanza di dieci anni dall'ultima volta e soprattutto stravolgendo completamente una stagione che era partita davvero con molti affanni. Dopo dieci anni la VL torna ai playoff e suona quanto mai riduttivo chiamarla missione compiuta. Perché Coach Banchi aveva già abbondantemente ormeggiato in porto la barca pesarese con una strepitosa salvezza raggiunta con anticipo e con prestazioni e risultati che avevano riportato in auge la passione pesarese dei bei tempi tornando a riempire la Vitri Frigo Arena. Il raggiungimento dei playoff sono invece la ciliegina su una torta che aveva già gratificato del fine compagni ma che non ne aveva saziato del tutto l'appetito. Sono arrivati i playoff perché è arrivata nell'ultimo atto di Napoli la quattordicesima vittoria stagionale che significa 28 punti e ottavo posto a pari merito con Trieste ma valorato da una miglior dote nella classifica a Vulsa. Pesaro dunque si regala il playoff con la prima della classe Virtus Segafredo Bologna. Un regalo recapitato da un'altra vittoria incredibile, quella contrassegnata dall'84-85 dopo i tempi supplementari arrivati in seguito al 71 pari alla sirena del quarto quarto. A consegnare vittoria e quei playoff che mancavano dal 2012 un canestro di lamba a 6 secondi dal termine. Per banchi conquistare i playoff a Napoli rappresenta la chiusura del cerchio con il punto più alto dopo che proprio nell'andata con Napoli la VL aveva cominciato la sua risalita. Sono arrivato in questa squadra ereditando una posizione scomoda. Chi di voi ha visto la nostra partita di andata? La nostra partita di andata probabilmente ricorderà in quella circostanza la larga vittoria di Napoli. Abbiamo toccato in quell'occasione forse uno dei momenti più bassi della nostra stagione dove era difficile pensare di poter risollevare questa squadra invece forse è stata quella la pietra angolare sulla quale abbiamo costruito la nostra stagione. Una partita dove Napoli ci dominò per 40 minuti schiacciandoci sotto il profilo tecnico, atletico. E forse la nostra storia è iniziata lì, quando alla mattina successiva ci siamo trovati in palestra e abbiamo iniziato a allenarci con un'altra rabbia, con un'altra determinazione. Ed ora i playoff. Il prossimo weekend la prima delle due gare consecutive a Bologna dopodiché la gara 3 a Pesaro per un quarto di finale al meglio delle cinque partite. E da una epopea sportiva conclusa in trionfo passiamo invece ad un altro evento sportivo del weekend che invece ha rischiato di finire in tragedia. Parliamo infatti di un clamoroso incidente avvenuto durante la regata Pesaro-Pola. Tragedia sfiorata alla regata Pesaro-Pola. La 36esima edizione della regata d'altura sulla rotta dei Trabaccoli è stata teatro di un pauroso incidente occorso alla barca croata Canarino Furioso, abitué della competizione. Nella notte fra sabato e domenica lo scafo ha urtato un ostacolo a 17 miglia dalla costa istriana ed ha finito per rovesciarsi. Tre uomini dell'equipaggio sono finiti in mare per poi riuscire a risalire, mentre altre due donne erano sotto coperta e sono rimaste incastrate per cinque ore sotto lo scafo. Partita la richiesta di soccorso, la prima imbarcazione ad arrivare sul posto è stata la maltese Zarevic che ha tratto in salvi tre uomini. Per salvare le donne è stato invece necessario attendere l'arrivo dei sommozzatori e della guardia costiera croata che ha rimorchiato a Pola la barca rovesciata. Un episodio che ha fatto sembrare bazzecole il meteo inclemente alla partenza di Pesaro di venerdì pomeriggio con 25 barche al via, cinque che hanno rinunciato per le condizioni proibitive e una rimorchiata in porto a Pesaro dalla Capitaneria dopo la rottura dell'albero. Intanto è partita la manche conclusiva Pola-Pesaro, mentre la seconda manche è stata vinta dalla barca anconetana di Letterio Morabito. Pesaro non molla sull'arretramento della ferrovia ed è al lavoro per includere Fano. Lo ha ribadito il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha annunciato l'arrivo in città del ministro Giovannini il prossimo primo luglio. Ascoltiamo il sindaco durante la diretta di questo weekend a WePesaro TV in questo estratto di intervista ai microfoni di Antonio Astuti. La proposta che il ministro ha fatto è che un miliardo e due di questi 5 miliardi riguarda il nodo di Pesaro. Siamo in attesa che il ministro firmi ufficialmente la lettera di ristribuzione delle risorse. Stiamo lavorando per recuperare il nodo di Fano, perché dal nostro punto di vista agganciare anche Fano significa fare una scelta strategica per la seconda e la terza città delle Marche, solo che ci vogliono 500-600 milioni in più. Appena possibile ufficializzeremo questa cosa. Proprio ieri il ministro Giovannini mi ha confermato che verrà a Pesaro il primo di luglio per il Cataraduno, che quest'anno si svolgerà a Pesaro e quindi credo che in quell'occasione faremo un'iniziativa pubblica istituzionale dove spiegheremo tutto il progetto e quindi in qualche modo festeggeremo anche un investimento storico per la nostra città, perché 1.200 milioni di euro sono una cosa mai vista a Pesaro, forse neanche quando si è fatta l'autostrada. Un investimento di lungo e medio termine, ma che cambia completamente la città. Immaginatevi la città non più separata dalla ferrovia. Immaginatevi Pantano attraversabile, Tombaccia, Santa Maria delle Fabrici attraversabile, il centro attraversabile e il lungomare senza ferrovia. Il lungomare sotto l'ardizio diventa uno dei lungomari più belli d'Italia. Quindi ci ho lavorato tanto, ci siamo, perché il ministro ha sostanzialmente già dato il suo indirizzo. Si tratta di capire se nei prossimi giorni riusciamo a rafforzare il nodo di Pesaro anche con la parte di Fano. Stiamo lavorando molto su questo e se ce la faremo avremo fatto davvero una cosa completa. E parliamo di lavori pubblici. Oggi è infatti partita la realizzazione del nuovo parcheggio del cimitero centrale che servirà anche al mercato del San Decenzio. Vediamo. Lunedì 9 maggio sono partiti questa mattina i lavori di completamento del parcheggio dell'area San Decenzio di via Mirabelli. 200 posti auto circa verranno realizzati nella zona adiacente a quella che ci troviamo ora, che è il parcheggio che serve, diciamo così, l'area più nuova del cimitero centrale. Ora arriveranno altri 200 posti auto e sono partiti oggi i primi lavori per un lavoro del costo complessivo per il comune di 846 mila euro. Un lavoro che si presume dovrebbe concludersi in autunno. Lavoro che è partito dopo circa un anno di ritardita, problematiche legate alla pandemia e altre criticità. E dunque lavori che sono cominciati per quello che è un'area di sosta che sarà a beneficio sia del cimitero centrale sia dell'area del mercato San Decenzio. Partiti i lavori e partiti anche i divieti, a cominciare da quello per il transito a pedoni e bicicletti su parte della ciclabile di via Mirabelli, via Belgioioso, che verrà interrotta, così come da mercoledì ci saranno dei divieti di sosta aggiuntivi, soprattutto vicini alla parte nuova del cimitero centrale, divieti con cui dovrà convivere anche il mercato San Decenzio domani, il primo mercato settimanale del martedì con queste nuove variazioni alla sosta e al lavoro in corso. E dunque altre ruspe al lavoro in una zona già piuttosto congestionata di cantieri, basta spostarsi di poche centinaia di metri e c'è quello che vedete alle mie spalle, la rotatoria tra via Fratti, via Belgioioso e via Giolitti, che da diverse settimane è bloccata al traffico. Nei giorni scorsi c'è stata un'apertura di un varco, quello che da via Trometta e via Pantano conduce verso la svolta consentita in via Fratti. Restano invece chiusi gli altri varchi verso via Giolitti e via Belgioioso per lavori che stanno riguardando una serie di sottoservizi di marche multiservizi, ma a breve partirà anche un secondo lavoro, quello per la realizzazione della ciclabile di via Fratti. Dunque tempi lunghi per cantieri che proseguiranno a step in questa zona. E a proposito di cantieri, apriamo il nostro spazio dedicato alle segnalazioni con queste immagini inviateci da un nostro telespettatore che riguardano un abbattimento di transenne che si è registrato nei lavori in corso in fondo a Via Nanterre per un presumibile atto di vandalismo. Altre immagini invece ci arrivano da Cappone di Vallefoglia e riguardano un incidente stradale nei pressi del ristorante La Nuova Fazenda, dove attorno alle 21.30 di ieri un furgone ha urtato due macchine parcheggiate sulla strada e si è rovesciato. Non si registrano feriti. Ringraziamo dunque i telespettatori che ci hanno inviato queste foto e vi ricordiamo come sempre il numero Whatsapp dedicato alle segnalazioni a Rossini TV 370-366-7210. A Bottega di Vallefoglia ha inaugurato la 43esima mostra del libro per ragazzi. Dopo due anni di stop per pandemia la mostra riparte con una dedica speciale a Gianni Rodari. Una mostra che durerà fino al 14 maggio e che vi illustreremo attraverso uno speciale d'approfondimento che trasmetteremo in prima serata mercoledì 11 maggio alle 21.20. Nel frattempo vi mostriamo però un estratto del servizio realizzato dalla nostra Roberta Esperide. Mi trovo a Bottega nel comune di Vallefoglia per la precisione sono all'interno del palafoglia sesto on the day di Bottega. Ebbene sì è partita la 43esima edizione della mostra del libro dei ragazzi. Siamo arrivati alla 43esima mostra, riparte dopo due anni di stop e ricordiamo che sarà attiva fino al 14 di maggio prossimo. Io ho inaugurato 43 anni fa questa mostra che è una ragazza poco più quarantenne e ritorna dopo due anni di covid ed è veramente una mostra davvero straordinaria perché nel frattempo è cresciuta, credo che sia l'unica nella provincia di Pesurbino forse tra le poche se non l'unica nelle Marche e una delle più importanti nel centro Italia parafrasando con la mostra del libro di Torino è una mostra che è cresciuta di qualità, di quantità e di interesse. Come sempre la mattina faranno visita le scuole, le classi del nostro territorio e faranno visitare i numerosi esposizioni, i laboratori che ci sono. Il pomeriggio è ingresso libero e ci saranno tutti i giorni un laboratorio con diverse persone, diverse associazioni che organizzano queste iniziative. Siamo voluti ripartire proprio infatti da dove ci eravamo lasciati a marzo 2020 quando a causa del lockdown abbiamo dovuto interrompere i preparativi per la mostra che era già avviata. Il tema appunto era il centenario di Gianni Rodari e abbiamo voluto pertanto intitolarla proprio fantasticamente cento più due anni di Rodari proprio per significare anche questi due anni di stop e di chiusura. Abbiamo corso contro il tempo perché la decisione di svolgere questa edizione è stata presa un po' all'ultimo a causa delle restrizioni che sono state imposte e nel momento in cui l'amministrazione ci ha proposto di realizzare questa mostra in breve tempo non abbiamo esitato, abbiamo comunque detto subito di sì. Noi siamo soddisfatti del nostro lavoro, ci aspetto una settimana piena di laboratori, attività con i bambini, la mostra dedicata a Gianni Rodari, quindi un'istituzione e il centenario che ricorreva nel 2020 non potevamo sottovalutarlo e quindi l'abbiamo riproposto 100 più 2 e non a caso abbiamo voluto evidenziare questi due anni di stop proprio dal titolo. Il titolo fantasticamente perché abbiamo comunque voluto riprendere la tematica della fantasia che è tanto declinata insomma in tutte le teorie di Gianni Rodari. E potrebbe davvero essere uno dei matrimoni dell'anno per la città di Pesero. Il campione olimpico di salto in alto nonché testimonial delle marche Gianmarco Tamberi ha infatti scelto Villa Imperiale di Pesero per sposare la sua compagna Chiara Bontempi. La data fissata è quella del primo settembre per il campione marchigiano che in estate emozionò tutta Italia con la sua vittoria alle Olimpiadi di Tokyo appena pochi minuti prima dell'oro olimpico al connazionale Marcel Jacobs, sempre nella atletica. E questa mattina con la mediazione delle comune di Pesero è stato trovato l'accordo tra le associazioni di categoria Apo Hotel, Confartigianato, Confesercenti e CNA e gli operatori balneari di Pesero per un documento che sblocca l'intervento di manutenzione ordinaria cioè i ripascimenti previsti dai contributi regionali di 79 mila euro integrati da ulteriori 50 mila euro inseriti nella variazione al bilancio del comune di Pesero. Il vice sindaco Daniele Vimini ha assegnato oggi il plauso del comune di Pesero alla squadra di triatlon tedesca del Wolfsburg che da 32 anni consecutivi viene ad allenarsi a Pesero per organizzare le sue gare. Un'unione cominciata nel 1990, momento in cui l'organizzazione non ha più lasciato l'hotel Imperial Sport né le linee della bicipolitana né gli impianti sportivi di Pesero. E parliamo anche di teatro perché sta per concludersi la stagione di prosa 2022 del teatro Battelli di Macerata Feltra organizzata dal Cesare Questa dell'Università di Urbino e da AMAT. Una stagione che si conclude questo mercoledì 11 maggio con lo spettacolo Nuova Barberia Carloni della Compagnia Teatro Necessario di Parma. Nel cast Alessandro Mori, Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini per la regia di Mario Gumina. Ancora sport dopo avervi raccontato della VL che ha raggiunto i play-off parliamo anche dell'Ital Service la cui il post-season era già ipotecata da tempo per la squadra di Pesero prima in classifica nella Serie A di Calcio 5 nonostante la sconfitta interna arrivata sabato al Palafiera per 4-1 contro il Ciampino Agniene. Partita in cui per i pesaresi è andato a segno De Oliveira. Domenica alle 18.20 arriverà l'ultima partita di regular season per l'Ital Service in casa del Real San Giuseppese, partita che potrete seguire in diretta su Rossini TV. E parliamo ancora di sport, quello della Colle Marathon, la Maratona dei Valori che dopo il biegno di stop per pandemia è tornata ad unire ieri i 42 km da Barchi a Fano con quasi 1000 atleti in rappresentanza di 19 nazioni, comprendendo quelli che hanno corso la mezza maratona. Con 2 ore e 30 minuti di performance la Colle Marathon ha registrato il terzo successo consecutivo del marocchino Younes Zituni che già vinse nel 2018 e 2019. Fra le donne ha vinto la maceratese Denise Tappatà in 2 ore e 57 minuti. Ancora corsa perché la Colle Marathon è coincisa a Pesaro con la Run for Red Cross. La corsa per la Croce Rossa che ieri mattina è giunta alla sua quarta edizione con proventi da devolvere alla causa ucraina. Nell'8 maggio, giornata dedicata alla Croce Rossa, è tornata la Run for Red Cross. Una marea rossa di 195 iscritti si è messa in marcia domenica mattina nella podistica di 10 km e nella parallela camminata di 5, organizzate dal Comitato della Croce Rossa di Pesaro che è tornata ad allestire la corsa per la quarta edizione dopo due anni di stop forzato per pandemia. L'8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e mezza luna rossa, quindi per noi è la festa più importante e quest'anno, capitando di domenica, abbiamo approfittato per organizzare questa corsa podistica non competitiva per coinvolgere un po' nella nostra festa la cittadinanza di Pesaro. Siamo molto contenti, ci sono state tante adesioni. L'evento ovviamente raccoglie anche dei fondi e quest'anno abbiamo deciso di raccogliere i fondi in favore dell'emergenza dell'Ucraina, quindi i fondi raccolti verranno usati dal nostro comitato per aiutare i profughi dell'Ucraina. Più di 2300 i proventi raccolti per l'Ucraina in una gara che ancora una volta ha visto Francesco Tornati primo sul traguardo. Ci sono 4 anni che lo fanno, 4 anni che partecipo, quindi anche quest'anno ho vinto come gli altri anni mi diverto, corro, si fa beneficenza, quindi sto bene così, è la mia passione, continuerò sempre, spero a farla finché la Croce Rossa organizzerà. Quest'anno devo fare i complimenti particolari agli organizzatori perché hanno cambiato il percorso un giro unico con le salite, si vede San Bartolo, quindi lungo il mare, i percorsi più belli di Pesaro c'è sempre tanta gente, comunque devo fare di nuovo i complimenti, molto contento di aver partecipato anche quest'anno. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che è dedicata all'approfondimento alla ricerca scientifica, quello che è avvenuto nello scorso weekend con il convegno tumori cerebrali pediatrici e neuroblastoma oggi e domani, un convegno organizzato dai Lions che abbiamo seguito, convegno che si è tenuto nella sede di Intesa San Paolo di via Gagarin a Pesaro e che trasmetteremo questa sera alle 21, dunque la ricerca scientifica che guarisce tumori cerebrali pediatrici e neuroblastoma. Appuntamento alle 21 e 20. E poi domattina l'informazione di Rossini TV che torna puntuale con la rassegna Buongiorno Rossini, appuntamento con i quotidiani locali che vi tiene compagnia come sempre in diretta dal lunedì al sabato, l'appuntamento di domani del martedì è con la nostra Emanuela Rossi. E martedì 10 maggio contrassegna anche la prima puntata della seconda stagione di Qua la Zamba, questo programma seguitissimo durante la sua prima stagione con Giacomo Jack Lucchetti, la sua Juliet e il nostro Antonio Astuti che vi terrà compagna tutti i martedì alle 21 e 20 cominciando da domani martedì 10 di maggio. Ed è davvero tutto per questa sera, ora ci sono le previsioni del tempo e a me non resta altro che augurarvi una buona serata in compagnia dei nostri programmi.